Grazie Ehi, due a due mister Ah, nervosissimo Ehi, mister, questo due a due come l'hai visto, mister? Eh, l'ho visto un bel gol da parte di Emanuele, sempre assiste al capo Eh, il capo come assisto oramai Ma che capo Ma che capo Vediamo Cosa fa anno E' facO? Via Ma non muro Bene, Manu, passala Fai tirala, fai tirala, se cazzo Eccolo Pallo, il boy Ma non, poi ce l'especi l'especi la Niente Va, ma stava per te, no No, 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 no.